se, hazi... che non si è mosso che non si è mosso e' la libertà hai una pettorina facciamo una foto finchè c'è il sole facciamo l'ostricione facciamo l'ostricione dai facciamo una foto facciamo una foto Ehi ragazzi vogliamo andare a spingere Buongiorno 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 a spingere Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.